Un cittadino tunisino abusa di una minore ed è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Marina di Ragusa nel corso del fine settimana. Tratto in arresto un cittadino tunisino di 31 anni per violenza sessuale aggravata. La vicenda ha tratto origine dalla segnalazione al 112 da parte di un giovane in vacanza nella frazione marittima di Ragusa, il quale ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Una sua amica, dice, era stata abusata da un extra comunitario. La gazzella è intervenuta portandosi sul posto e riuscendo nell'immediatezza ad individuare il presunto responsabile che nella concitazione del momento ha cercato di darsi alla fuga correndo per le vie del centro. Tuttavia i militari, postisi all'inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, suscitando tra l'altro il plauso degli astanti che avevano assistito alla scena. Gli accertamenti esperiti hanno permesso di ricostruire come l'extra comunitario avesse avvicinato la vittima, una quindicenne in vacanza con la famiglia, mentre era intenta a fare un bagno in mare, avvinchiandosi e palpeggiandola. Fortunatamente la ragazza è riuscita a divincolarsi e a scappare, avvisando gli amici li presenti. Inoltre, all'atto dei controlli, il tunisino veniva trovato in possesso di alcune tronchesi, verosimilmente utilizzati per i furti di biciclette. Sono dovuti intervenire i vigi del fuoco ieri pomeriggio intorno alle 16 all'interno di una zona chiamata Lami nell'isola di Lipari. Hanno dovuto soccorrere i due turisti che avevano perso l'orientamento durante un'escursione sull'isola. I due, infatti, andati per fare una passeggiata all'interno della zona boschiva, sono stati recuperati dall'elicottero giunto dal reparto volo vigili del fuoco di Catania. Avevano notato un andi riviene da una delle palazzine di soggetti conosciuti alle forze di polizia, assuntori di droga all'interno di quel quartiere incontrato a Scardina e così è scattata l'operazione. Agenti del commissariato di polizia di Stato di Augusta hanno arrestato un uomo di 46 anni nella fragranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato seguito nel corso di un'operazione di polizia finalizzata al contrasto della vendita di droga nel territorio di Augusta e scaturisce da un'attività di indagine svolta in un complesso di abitazioni appunto sito incontrata a Scardina. L'attività di spaccio era stata acclarata dalla perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti che hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione del 46enne 248 grammi di marijuana. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Commemorazioni il 29 luglio. A distanza di anni 1983 è stato ucciso infatti a Palermo il giudice Rocco Chinnici. Muore nell'esplosione della sua auto, una Fiat 127 imbottita di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Federico Pipitone. Era il padre fondatore del pull antimafia. Nel 41esimo anniversario dell'assassinio e di una strage in cui morirono anche gli uomini della sua scorta, il maresciallo ordinario Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartalotte, insieme con il signor Stefano Lisacchi, portiere dello stabile nel quale abitava il giudice, una cerimonia commemorativa che ha riunito i numerosi presenti nel toccante ricordo dei caduti. Deposta la corona dall'oro nel luogo dell'assassino in via Pipitone Federico, dove sono stati cresi gli onori ed è stata data lettura della motivazione concessa ai decorati. Celebrata anche una santa messa ufficiata dal parroco Don Alerio Montalbano. Gli interventi poi delle autorità civili e militari presenti. L'autonomia differenziata farà peggiorare la condizione delle donne siciliane. La CGL Sicilia fa il punto e presenta la propria posizione mercoledì 31 luglio, un manifesto per il sì all'abrogazione della legge. Con l'autonomia la condizione sarà peggiorata, dicono nel manifesto. Sarà questo uno degli effetti di una misura che indibolirà la Sicilia il mezzogiorno, andando a incidere negativamente su servizi essenziali come sanità e scuola, sulle infrastrutture, sullo sviluppo e il lavoro. A farne le spese saranno i soggetti, come appunto le donne ma anche i giovani, che hanno già una posizione di debolezza nel mercato del lavoro. A fare il punto della situazione, in merito alla CGL Siciliana, che mercoledì 31 luglio presenterà il manifesto intitolato La controoffensiva delle donne all'autonomia differenziata. L'appuntamento è a Nicosia, Enna, alle 10 davanti al punto nascita dell'ospedale Basilotta. Non sarà un semplice G7 come la talezione, quello di settembre sarà un grande expo su agricoltura e pesca. A sottolinearlo è il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, che all'Urban Center ieri ha incontrato i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive di industria, agricoltura, artigianato, commercio, turismo, piccola e media impresa, degli ordini professionali, i rappresentanti degli enti di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente, quelli del mondo dell'associazionismo legato ai settori interessati e alle tematiche specifiche del G7. L'evento durerà tre giorni, si terrà al maniace, le manifestazioni collaterali dureranno nove giorni, dal 21 al 29 settembre, con stand espositivi, degustazioni, momenti di intrattenimento su tutto il centro storico, spettacoli musicali e sportive, la possibilità di visitare le navi 18 e Gregoretti. Diversi ministri che hanno assicurato la loro presenza, oltre ai presidenti di Camera e Senato. All'incontro presenta Anna Nastri, capo ufficio rapporti internazionali del Ministero delle Politiche Agricole, Marco Lupo, capo dipartimento della sovranità alimentare del parlamentare, l'onorevole Luca Cannata e il collegamento da Palermo l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Tra gli eventi collaterali di interesse, lo spettacolo con Eleonora Bagnato in programma il 27 settembre e altri due grandi spettacoli di rilevanza precederanno il G7 e si terranno al Teatro Greco il 24 agosto e il 15 settembre. Anche l'Ippica rientra all'interno del G7 dell'Agricoltura ed era spettacolo con convegni misti di trotte di galoppo il 28 e il 29 all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Al via mercoledì 31 luglio nella splendida cornice dell'antico Borgo Marinaro alla prima delle tre serate di Ortigia Film Festival ad Avola che inaugura la sezione Cinema e Arte con collaudo sdra in cinema come non avete mai visto, uno schermo sulla spiaggia, il cielo stellato e l'esdraio per gli spettatori. Si parte alle ore 21 con l'evento speciale Rosa Cunta e Canta con Donatella Finocchiaro e Vincenzo Ganci parlando appunto di Rosa Balistrieri e la proiezione di La nostra Raffaella di Emanuele Imparato, un viaggio nella carriera straordinaria di Raffaella Carrà. In questa edizione Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli ha sviluppato il tema del corpo violato per riflettere su una narrazione nuova legata alle tematiche di genere e alle sue molteplici accezioni e declinazione alla ricerca di un'uguaglianza reale non solo formale. Fireford in Inghilterra, anche l'aeronautica militare che dal 19 al 21 luglio ha preso parte al Royal International Air Tattoo con gli assetti e il personale del reparto sperimentale di volo. Il tema operativo della manifestazione di quest'anno è stato Pushing the Boundaries in Aerospace, tema che ha voluto evidenziare l'importante lavoro di test and evaluation nel mondo dell'aviazione moderna. Argomento quanto mai calzante per il reparto sperimentale di volo, il cui compito istituzionale è quello di supportare i reparti operativi dell'aeronautica militare attraverso la sperimentazione, l'integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d'arma e di quelli sottoposti a modifica. Tre giorni intensi durante i quali sono decollati per le dimostrazioni tecniche in volo i velivoli T-346A Master, Eurofighter Typhoon, C-27J Spartan del reparto sperimentale di volo che hanno messo in risalto le eccellenze tecnologiche e la preparazione tecnica e professionale della Forza Armata. Proprio l'equipaggio del velivolo C-27J si è aggiudicato ancora una volta il Sir Douglas Bader Trophy per la Best Individual Flight Demonstration, premio già vinto nel 2022 e nel 2011. Presente con un tornado special color in mostra statica anche il sesso stormo di Ghedi che nella giornata di venerdì in occasione dei 75 anni della Nato ha effettuato un sorvolo in rappresentanza dell'Italia. Grande l'entusiasmo e l'apprezzamento da parte del pubblico internazionale presente alla manifestazione d'oltremanica per la nostra Forza Armata.